Ciao amici di Tecconer.it, Huawei ha da poco presentato i nuovi top di gamma della serie P, il P9 e il P9 Plus che vedete in questo momento nelle mie mani, che si caratterizzano per la nuova CPU Kirin 955, che ha sostanzialmente circa 200 MHz di differenza sui Cortex A72 dal modello precedente montato ad esempio su Mate 8, il Kirin 950. Bene, oltre a questa piccola differenza e un quantitativo di RAM differente, scopriamo come si comportano sottotorchio e quali sono le differenze visibili. Vediamo subito questa sfida al benchmark Mate 8 vs P9 Plus. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! La spunta del P9 Plus, come avete visto, ma 5.000 punti non sono poi così tanti, ciò sta a significare che comunque la differenza di processore non conta poi così molto e specialmente vi posso assicurare che nell'utilizzo quotidiano questa differenza quasi non si nota. Se questo video vi fosse piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace qui sotto e iscrivervi al canale e iscrivervi anche al canale Telegram che abbiamo da poco fatto e trovate il link qui sotto in descrizione per non perdere nessun aggiornamento sui nostri nuovi video in pubblicazione. e arriveranno molti nuovi video sul P9 Plus quindi mi raccomando rimanete sintonizzati e ci vediamo sempre qui al prossimo video su techonair.it Ciao a tutti da Niccolò!